Questa sera siamo qui a Montella all'asilo Capone per festeggiare l'ulteriore edizione del campus musicale di Montella organizzato dal comune di Montella, dalla scuola di musica della città e dall'Accademia Gandischi di Avellino. Siamo qui con la signora Teresa Bruno, operatrice del comune di Montella, assessorato alla cultura. Innanzitutto cosa ne pensa di questa iniziativa? È un'iniziativa splendida, noi sono ormai dieci anni che collaboriamo con l'Accademia Gandischi l'Accademia gestisce la nostra scuola comunale di musica e a fine anno proponiamo questo campus musicale è un'esperienza per tutti gli allievi della scuola, si mette in musica una favola e c'è una partecipazione siamo orgogliosi di questa esperienza, di questa manifestazione e ogni anno c'è una grande partecipazione di tutti, anche dei più piccoli, dei genitori, delle famiglie.